Arrivare in una piazza come il Chieti sicuramente stimola e ti viene voglia veramente di fare bene e di ambire a vincere il campionato. Non c'è da pensare a altro, quindi sono molto contento di essere qui. Ciò che mi ha spinto a venire qua è stato il direttore che mi ha cercato, ha insistito molto sul fatto che venivo qua a Chieti, mi ha parlato del progetto, è un progetto ambizioso e subito a me mi piacciono i progetti, mi piacciono le piazze soprattutto calde e qui comunque i tifosi in questi anni passati mi hanno sempre cercato, quando venivo qua mi dicevano Fahl vieni qua a giocare con noi, quindi a me non ci ho pensato due volte. La squadra l'ho vista, prima di tutto ho visto un buon gruppo, dei ragazzi bravi, sono andato a mangiare anche con loro e ho visto un mister molto determinato che ha voglia, ha fame di veramente vincere. Già conoscevo dei ragazzi che giocavano con me in passato, Diego, Conson, ho giocato con Vesi, con Forgione, quindi conoscevo anche gli altri ragazzi del Chieti, altri ragazzi che hanno giocato, di cui ho incontrato. Matteo che è un giocatore che non ha bisogno di essere presentato, quindi tutti noi credo che quando sono arrivato erano anche contenti del mio approdo al Chieti. Per donare credo che io ho fatto il mio lavoro con altre squadre e la cosa che devo fare è soltanto far gioire i miei nuovi tifosi perché si sarà da divertirci. Io sono una persona che pretendo in me stesso e si toglieremo delle grandi soddisfazioni perché ci sono tutti presupposti per far bene insieme.